Salve a tutti quanti, io sono Trennase, benvenuti a questo video in cui parleremo dei campioni della patch 7.7, i migliori per giocare in solo queue. Allora, la 7.7 e anche la 7.8 sono quelle che solitamente si possono definire delle patch intermedie. Durante queste patch non ci sono enormi cambiamenti, anzi sono piccoli bilanciamenti, perché sono periodi molto vicini a delle finali degli LCS, soprattutto la Spring Split che adesso sta per essere completata, e quindi vogliono cercare di evitare di cambiare troppo le carte in gioco per non avere degli eventi in cui vengono utilizzati i campioni visti poco o contro cui i team non possono abituarci, abituarcisi, come cazzo si dice? Abituarcisi nel tempi necessari. Insomma, praticamente i team hanno rotto il cazzo l'anno scorso perché ai mondiali due anni fa è successo il casino con la patch dei Bruiser e la Riot allora ha deciso, ok, teniamo le patch importanti, tipo la 7.9 che avranno tutti i rework dei tank, tutti i rework degli oggetti da tank e tutti i rework degli oggetti da rework, cambiamenti piccoli, e li tengono per la patch della 7.9. La 7.7 e la 7.8 hanno piccoli cambiamenti che hanno influenzato alcuni dei pick da solo queue. Infatti adesso rimuoverò dalla lista quella che avete visto nella patch precedente, che vi lascio il video nella descrizione, perché comunque 7 di quei pick sono ancora validissimi, ne tolgo però 3, ne rimuovo 3 da quella lista. Rimuovo Katarina e Shako, Katarina dalla midlane e Shako dalla jungle, per semplicissimi motivi. Shako è stato nervato pesantemente sulla sua queue, il cooldown in early e il danno totalmente rimosso è pesante. Adesso devi essere molto più bravo con Shako, già prima era un champion complesso di base, non mi sembrava giusto proporvi un campione che già di suo è difficile, che è stato reso ancora più difficile da giocare correttamente. Quindi rimosso. Lo stesso discorso si applica a Katarina nonostante, nonostante il nerf sia più leggero. Il nerf al cooldown della E, aumentando il cooldown durante le fasi iniziali della partita, è pesante perché è più difficile snobollare a livello 3, 4, 5, che sono livelli in cui spesso e volentieri le Katarine molto molto brave potevano andare estremamente aggressive e potevano avere in pratica un modo per ingaggiare i propri avversari, fare un all-in aggressivo e ottenere un vantaggio iniziale. Visto che questo vantaggio iniziale è ancora più difficile da prendere durante le fasi iniziali, ho deciso di rimuoverla. Rimane ancora validissima per la solo queue, ma di nuovo è un campione complesso e quindi metterlo lì nella lista di suggeriti come qualcosa che puoi prendere in mano e vincere non mi pareva giusto. E infine, e infine, l'ultimo pick che molti saranno straniti dal vedermi suggerire il contrario su questo campione, Renekton. Voglio rimuovere Renekton dalla lista perché molti hanno visto, molti si sono accorti, di una cosa che sta succedendo. Pantheon e Fizz vengono selezionati di nuovo molto in top lane. Fizz come un Bruiser e Pantheon come è sempre stato Pantheon, un vero e colossale palo in culo. Il motivo di questo è che spesso e volentieri Renekton soffre lui stesso da specifici pick. In passato, nei vari meta che sono passati negli anni, Renekton tornava in voga e poi la gente si ricordava che c'erano dei pick, come esempio Fizz, Bruiser, che funzionavano estremamente bene contro di lui. E infatti Fizz è tornato ad essere giocato e su win rate è salito proprio più saliva in win rate di Renekton e più saliva in win rate di Fizz in top lane, proprio perché è più facile negare un Renekton con un Fizz. Certo, non è una garanzia che lo counteri, però i giocatori più bravi riescono a selezionare Fizz perché ha dei danni che sono anche abbastanza difficili da gestire. Chi non ha esperienza contro Fizz, se lo trova contro una prima volta e dici che cazzo è Fizz top lane poi ti ritrovi a livello 1 e dici che cazzo è successo alla mia vita perché puoi perdere veramente un trade in maniera facile contro Fizz se non sai come fa il suo danno e se non sai come affrontarlo correttamente. Ed è per questo che quindi Renekton lo rimuovo. Quindi adesso andremo a vedere quali tre campioni vi suggerisco per sostituire questi tre che ho appena rimosso. Partiamo dal top lane. È semplicissimo questo, è ignorantissimo, tutti lo odiano e maledizione se lo odiano tanto e ironicamente il suo win rate sta salendo, proprio perché è tornato in voga Renekton e lui fa proprio festone con il culo di Renekton. Anche questo non l'ho citato prima, però volevo introdurvelo adesso. Il signor Darius, caro vecchio Darius. Ah, che carino, che simpatico. Spesso volentieri più che altro adesso viene sottovalutato per il fatto che molti dicono eh, ma non ha mobility, viene kaitato, eccetera, eccetera. Non è messo così male come tutti pensano. I suoi rate rimane alto, i suoi danni rimangono alti. Direi che ne vale la pena. Ovviamente, una delle cose che suggerisco è guardate le rune che vi sembrerà stranissimo, ma ne vale la pena. Voi qui testiamo ben speed e voi direte, per quale cazzo? Fidatevi, vi aiuta un sacco a fare i vostri trade, vi aiuta tantissimo, perché vi permette di inseguire i vostri avversari e non, non rushate sempre e subito la Black Cleaver. Nel caso in cui vi trovate champion pesanti come Renekton, spesso e volentieri andare prima con una Sunfire e poi con la Black Cleaver vi aiuta meglio. Soprattutto nei controi champion aggressivi. Anche Pantheon, che spesso lo rivediamo di questi tempi, tranquilli, dovete soltanto pensare ad andare dritti. Non sarete voi ad ingaggiare, quindi magari chiedete al vostro jungler, se scegliete Darius, di piccare qualcosa che può fare un engage, tipo uno Zack. E infatti, come suggerisco, un bello Zack. E voi direte, ma pi... cosa? Zack lo stanno per reworkare l'apo, per quale motivo lo suggerisce? Proprio perché lo stanno per reworkare e sta per arrivare anche nella 7.9 il rework di tutti i tank, tra oggetti, rune, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono tante cose da imparare. Zack non è un champion semplice, soprattutto per la sua grande capacità di engage. E il suo quantitativo danno, che sembra discreto, invece non lo è per nulla. E quindi, imparandolo bene, puoi fare veramente tanti danni. Ma più che altro è il fatto che hai un engage che ha un range stupido. Maxate la E per prima, per favore, non fate altre scemenze. La E per prima, sempre e comunque. È il vostro strumento più importante per gankare. Il voto è che potete lanciarvi da una distanza siderale, per poi saltare e planare in culo ai vostri avversari. Soprattutto la bottom lane, avversaria che dice da dove cazzo è uscito sto Zack di merda. Insomma, tool perfetto per ingaggiare, berrà reworkato in meglio, in meglio. Nella 7.9, ma questo spoiler. Vedrete, vedrete, sarà bellissimo il nuovo Zack. Quindi un buon momento per impararlo, così che comunque potete sfruttare al massimo la sua forza attuale. E nel caso, e nel caso vogliate continuare a giocarlo una volta arrivata nella 7.9, comunque lei rimarrà praticamente uguale. Magari le altre abilità rimarranno capito giusto un pochino, però il kit non cambierà troppo. Vi piacerà qualmente. E ne varrà la pena averci investito un po' di tempo. Almeno avrete imparato come ingaggiare dalla distanza con Zack. Passiamo all'ultimo campione che va a sostituire quelli precedenti che sono stati eliminati. Twisted Fate Midlane. Ah, questo campione è sempre stato al massimo per la solo Q. Molto difficile da utilizzare correttamente, perché si basa sul positioning e sullo sfruttare correttamente i propri cooldown al massimissimo livello, proprio perché non ha mobilità. Questo champion, il positioning non è importante di più. E infatti, le 3 quid senza i movement speed, per quanto molti dicono, ma non metti ability power a questa volta, no, niente ability power, niente, niente, zero, nada assoluto nelle rune. Infatti abbiamo messo già le HP per livello, le blu magic crazy, le rosse magic penetration, ma niente ability power. Perché questa scelta? Perché è più importante potersi posizionare correttamente per il range di autoattacco e i TF. Tutto il kit di TF si basa attorno al lanciare la carta, gialla, blu, rossa che sia, dipendentemente dalla necessità. Gialla quando vuoi stonnare, rossa quando vuoi rallentare, dipende sempre da una serie di fattori. E questi fattori li impari soltanto con l'esperienza. Non ci sarà mai modo per dirvi guarda è sempre meglio la carta gialla, guarda è sempre meglio la carta rossa, guarda in questa situazione è sempre meglio la carta blu. Non esiste, non c'è modo. Lo impari col tempo o lo impari giocando? La build è un pochino eccentrica, ma è più basata sul stile di gioco dei coreani proprio per il fatto che ti permette di sopravvivere alle landing phase leggermente più facilmente, un pochino più facilmente. Non in maniera eccessiva, ma un pochino più facilmente. E più che altro ti dà un altro strumento col GLP 800 di ingaggiare attraverso lo slow ad aria, permettendoti quindi anche di entrare in range di autoattacco più facilmente e poi tirare la tua intera combo, che sia semplicemente W autoattacco e poi Q qua sulla target stunnato. Non molto complicato. Sfruttare la E è probabilmente la cosa più importante, soprattutto il landing phase. Sfruttatela sui vostri avversari, non sfruttatela sui minion, per favore. E infine, le ultimate. Non usate le top lane, usate le bot lane. Bot lane è facile da uccidere, sono fragilini. Top lane sono dei tank o dei bruiser. Non troverete gente facile da uccidere in top lane. Non sprecateci te, a meno che non ci sia tipo una Riven, un... Non lo so, un Jace, cose del genere, ma non un Kled, un Renekton, cosa che rischi tanto a gancarli, ma veramente, veramente tanto. Questo qua è tutto quanto per questo video. Fra un paio di settimane di nuovo ci sarà quello per la 7.8, in cui non cambieranno tanto i campioni, perché di nuovo sarà un'altra patch intermedia. Nella 7.9, invece, ci sarà un po' più di tempo da aspettare, proprio perché vedremo tanti cambiamenti insieme e quindi vedremo dei grossi cambiamenti a tutta la lista dei campioni. Io sono Trenas. Bella.